Ciao a tutti, sono Marco e quest'oggi vi presenterò la recensione di 4 cavi della Onight USB-MicroUSB. Ogni cavo vi arriverà già chiuso in queste fascette di velcro, molto comode anche da portare in giro. Come vedete i cavi sono i connettori placati in oro, questa è una buona resistenza e anche una buona conduttività. Infatti questo tipo di cavi supporta anche il Quick Charge 2.0 e 3.0, quindi se avete un cellulare con la ricarica veloce questo cavo va bene assolutamente per voi. Come ho detto il kit è composto da 4 cavi uguali, sempre di un metro, quindi diciamo che con un acquisto unico avete risolto tutti i problemi dei vostri cavetti. Quindi potete lasciarlo uno al lavoro, che ne so, uno in una camera, uno in un'altra. I cavi sembrano ben fatti, sono comunque in materiale plastico abbastanza resistente, il cavo è abbastanza doppio, quindi comunque sembra resistente. Buona cosa come sempre questi rinforzi nei punti di maggior sollecitazione, ovvero vicino ai connettori. Il prezzo di vendita comunque è molto contenuto, considerando che ne avete 4 tutti insieme, quindi comunque assolutamente l'acquisto è consigliato. A nome mio, a nome di Laura Fener, vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!